Micro, piccole e medie imprese dei territori colpiti dagli ultimi eventi sismici potranno attingere sostegno economico da un fondo speciale di 15 milioni di euro. Infatti, grazie alla raccolta effettuata da Acri tra le fondazioni bancarie, tra le quali anche la fondazione Tercas, e alla collaborazione con Intesa San Paolo, le piccole imprese del Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo potranno ricevere finanziamenti per investimenti destinati al ripristino o alla riconversione dell'attività aziendale oppure per esigenze di liquidità. Ad annunciarlo è la presidente della fondazione Tercas, Enrica Salvatore, che ha sottolineato come questo sarà possibile grazie a un fondo di garanzia che finanzierà a tassi particolarmente contenuti, fino al 100% dei costi sostenuti dal beneficiario, con un massimo di 30 mila euro. Si tratta di un fondo di garanzia costituito dalle fondazioni aderenti all'Acri che si propongono di finanziare le imprese profit e di qui una particolarità, chiaramente in fondazione si parla sempre di imprese non profit, qui oggi parliamo di imprese profit, quindi un finanziamento a favore delle imprese profit che possa essere pari al massimo a 30 mila euro, che possa essere utilizzato per diverse tipologie, per investimenti oppure per esigenze di liquidità. Quindi ciascuna impresa che ritiene di avere la sede operativa, ovvero la sede legale presso uno dei comuni elencati dal decreto, quindi uno dei comuni del cratere, potrà usufruire di questo fondo di garanzia e quindi chiedere prestiti fino a 30 mila euro. La durata massima del prestito sarà di 60 mesi per finanziamenti destinati al sostegno di investimenti, di 36 mesi per sostenere la liquidità. L'azienda interessata a un finanziamento potrà presentare domanda presso una filiale del gruppo Intesa San Paolo e per conoscenza alla fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.